Allora ragazzi, nuovo progetto, nuova resina, quindi prendiamo la roba seria Facciamo un test? Alexa pausa Oggi invece andremo a utilizzare questa bellissima tavola di pero Oggi invece andremo ad utilizzare questa bellissima tavola di tasso Come mi consola sta cosa, come mi consola Torquato tasso 3 e 5 In cittadinanza, dai Giallo, basta, basta Come mi diverto Allora, il musone là in fondo Tasso qua, tasso Non ti saluto Tanta tanta bella roba Componente A Componente B Componente per terra Cazzo Adesso andremo a spianare la tavola Guardate In frattempo voi lo so, fate le pulizie Fatevi i cazzi vostri No, voi non dovete Non esiste che è un separei? Guardalo Ma no, un separei Io vedo la faccia Ma che sono qua di fianco? Come fai hai vedo la faccia? Tu conta fino a 2 e poi parti Ah, nella testa Uno, due, via Allora, le lavorazioni Le lavorazioni che andiamo a eseguire sono Grosso modo le medesime dell'altra Forse le facciamo a parte un po' invertite Come prima cosa che i cazzolini Come prima cosa Ma non vai me l'avanti Giallo Non è spinta Uno, due No, perché fa così parti subito Se non c'è sto coso E poi stiamo parlando di avanti Poi zoom in primo piano così e isoli in su Così il suono No, no, ragazzi non ci credo Non ci credo No, dai Facciamo così Così magari teniamo un po' di serietà Allora, aspetta Pani, sto partendo Due Allora, le lavorazioni che andiamo a eseguire Due La difficoltà maggiore sarà sull'estetica finale Che avrà questo top Perché le idee chiare ci possono essere Ma non si Non abbiamo ancora il punto della situazione Non è vero Due No, già faccio Ho fatto due minuti Perché sono serio oggi finché hai toccato l'impasto Ma se stai impastando per niente No, perché Allora, a differenza dell'altra lavorazione In questo momento No, ma dai Comunque questa rinata io non ce l'ho fatta C'era risotto No, no, no Dai 3 E La cosa è che siamo fatti di posto A fine No, cazzo, c'era il codice La parte quella più delicata sarà proprio quella della finitura come quali zone adibire allo spazio di resina bianca. Ma questo sono cazzi suoni, quindi va bene così, no? A me piace. Io lo terrò così. Adesso dobbiamo mettere il pigmento bianco fino a raggiungere la consistenza colore... Io dicevo, cosa sta facendo? Non c'è Gianluca, figura! Mi sono detto che mi dicevo, sono lei! Ti metti, non c'è! La rivelazione! Finirai nei miei danni! Perché ride? Non lo so, pensavo a voi l'altra volta... Ah, sei già l'occhino parte 2! Basta dai, basta! Ma il pigmento è l'occhino! Le mosche! Rimuovere il tutto una volta finita! Quindi solo assolutamente viti! E poi, WoodenBiard mi ha detto di usare le viti normali, quindi le PZ2, no? Però io sono qua! Gli metto le torx! Ma lui se ne accorgerà solo dopo! Ho usato le torx? Come se non sento il click di oggi? È perché sopra per gli highlights! Ah no, sei stato bravo! Ma hai usato un po' di tutto! Ma sei un testa di cazzo! Hai fatto uno e uno! Tu hai dei problemi! Adesso non so se questo pezzo si vedrà mai, ma quello lì ha dei veri problemi! L'idea era che te lo spacchettavi tu e quindi ti saresti accorto! Mi sono incazzato di brutto perché gli dicevo, ah che bravo! Quindi prendevo la punta della croce e venivo qua e poi dicevo, ma fa che testa di cazzo! Ma guarda, un po' l'ho detto! È veramente, veramente, a me piace vedervi incazzato! Mi piace averti incazzato! Ma ce l'ho da solo per uno delle bestime che ti ha fuori! Parkour! Abbiamo usato due set di cortelli! Di cortelli! Parkour! Sono le due di nocce! Spiega perché! Allora, guarda che ci partono i truccioli di resina addosso, ma forte! Cioè io e lui abbiamo sangue! Cioè proprio il sangue! Abbiamo deciso di scocciarci tutto! Poi fai io questo stronzo, ho stretto forte, non mi sento più la mano! Però è un modo per proteggerci perché fa un male porco! Beh, devo mettere il panico, il bianco non mi convinceva un cazzo, però non è male, dai! No, è bello! Mi hai dimenticato la maschera! No, no, no! Lo sapevo, lo sapevo! Sei proprio un pezzo di... Ah, lei che bello! Ma quanto cazzo! Ma l'hai schiacciata dentro! Inquadrati! Dai, ma sei proprio una bella! Che cazzo hai già? Parcours! 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 Ah, scusa! Di qua! Non ti preoccupare tanto! Parcours! 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 Bene ragazzuoli! Bene ragazzuoli! Bene ragazzuoli! Siamo tornati... Ma ragazzuoli sono io! Allora pagai! No! Parcours! 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 E... Se posso dire una cosa... Sono contento di aver avuto la possibilità di poter resinare e tagliare nel mio laboratorio! Sono proprio contento! Ringrazio tutti perché è un onore per me pulire! Sparca poco! Almeno ha capito che non lo farà mai più! Mai! Mai! Non lo farà mai!